Morta un'occupazione causa sgombero, se ne fa un'altra. I giovani del collettivo Lambretta, sfrattati dalle quattro villette Aller di piazza Ferravilla, occupate in primavera, si sono spostate di qualche centinaio di metri. Sempre in zona cittastudi, hanno infatti aperto il portone di piazza Occhialini 19 e si sono stabiliti nella sede dell'Istituto Rizzoli per l'insegnamento delle arti grafiche. Altro edificio abbandonato, tre piani in tutto, con ampi spazi interni. Una quindicina di ragazzi, con l'uso di una fresa, sono riusciti ad aprire l'ingresso e a raggiungere il primo piano dell'edificio. Dalla pensilina hanno acceso fumogeni in segno di vittoria e hanno calato questi striscioni. La nuova occupazione è arrivata dopo che i tre militanti, saliti martedì mattina sul tetto di una delle quattro villette sgomberate, ieri sera sono usciti dalla porta della villa senza usare il telone dei vigili del fuoco. Ad accoglierli, tra applausi e cori, alcune centinaia di giovani di diversi collettivi e gruppi studenteschi milanesi che hanno organizzato un corteo per le strade del quartiere. In queste ore il collettivo ha cominciato a organizzarsi all'interno dell'edificio e ha indetto un open day per incontrare studenti, famiglie e aziende del quartiere. Negli anni scorsi l'istituto Rizzoli è stato tema di discussione in cittastudi. Era stato infatti studiato un progetto per abbatterlo e costruire al suo posto un residence per studenti di 16 piani per 55 metri di altezza. Un ecomostro, un progetto da sempre avversato dai comitati di quartiere e dal consiglio di zona 3.